Posso dire semplicemente che abbiamo ottenuto due firme con Sagginario e Angelo Cioffi. La campagna acquisti non è conclusa, non svelerò ovviamente quali sono i nostri interessi, si saprà direttamente alla fine del completamento della squadra. Si lavora, si lavora bene, è una società abbastanza compatta. Io spero che quest'anno la situazione cambi, nel senso che i ragazzi vengano a seguire la loro squadra. Cervinale ha sempre avuto una grande tifoseria, ci sono gli Ultras che hanno sempre portato moltissimi tifosi e penso che quest'anno migliorerà soltanto la situazione, ci saranno molti più tifosi, mi auguro. Il suo rapporto con il presidente Ricci è un passaggio da passato a presente, anche se si lavora insieme. È un ottimo rapporto, gli sono grato che mi ha dato quest'occasione perché comunque per una ragazza non è facile, è la mia prima esperienza. Guardo, osservo e come gestisce le varie situazioni proprio per imparare perché ovviamente sarei stata una folle a fare la presidentessa di una squadra di calcio per la prima volta. Quindi faccio la mia esperienza e poi un giorno sarò pronta. Un'ultima domanda che riguarda quello che è di importante si fa oggi. Oggi arriverà il presidente dell'Avellino Taccone per parlare di calcio, di Avellino. Si può creare una sinergia proprio con l'Avellino Calcio e il Cervinale di Promozione, visto anche gli ottimi rapporti che ci sono grazie al suo papà? Sicuramente, io mi auguro di sì, spero che il presidente Taccone ci dia anche una mano, anche lui, ma credo sarà così. Mi auguro anche che l'Avellino andrà in Serie A, spero, vada in Serie A. Sì, sicuramente ci saranno degli agganci anche con Taccone.